Molto operato con i piedi, è veloce, è affomato, stiamo attenti, l'ho detto già prima, sempre il camminato l'avete visto, facciamo preparare che stiamo attenti, va bene? Sì. Dai, è solo tutti i ragazzi, vediamo qua. Dai, voglio, eh. Tutti quanti, tutti quanti, dai, dai. Un attimo. Dai, Geri. Voglio, se siete in situazione di lavoro, all'inizio, concentrati, eh. Tutti quanti, facciamo subito, forse. E per la Vintus, in Pimp! 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 Dai, ragazzi, vai!